ciao bentornati sul nostro canale oggi abbiamo approfittato di questa splendida giornata di metà ottobre per fare una bella passeggiata in natura guardate all'interno ovviamente contengono i pinoli musica 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 nel frattempo ne abbiamo approfittato per raccogliere un po di pigne ma mi raccomando raccogliete sempre il necessario musica 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 per aspera d'astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like non dimenticate di attivare la campanellina e di seguirci su instagram e facebook ci vediamo al prossimo video ciao ciao musica 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 musica